E' corsa contro il tempo nel sottopiazza della Libertà Salerno dove ora dopo ora, giorno dopo giorno, i gestori delle attività lavorano febbrilmente per arrivare all'apertura entro questa estate, quella 2023, la data che segnerà la nascita della nuova movida di Salerno. Ne sono convinti i titolari dei negozi e delle attività che dopo anni di impegno, sacrifici, lotte anche contro cavilli burocratici e non solo, ora sono in dirittura d'arrivo ma continuano a combattere. Se il tempo meteorologico è stato dalla loro parte, rimandando l'arrivo dell'estate vera e propria, quindi concedendo loro un po' più di tempo per mettere a punto le ultime rifiniture, lo stesso non può dirsi per i vandali che ogni sera colpiscono la zona e che forse potranno trovare un freno proprio dall'apertura dei locali che rappresenteranno essi stessi un presidio di sorveglianza contro chi imbratta le scale, dove si lavora anche in queste ore per pulirle dai segni del tempo e degli incivili. Danni vari e persino il furto di lampioni che illuminano la stecca di negozi. Per questo, a pochi giorni dall'inaugurazione di altre attività, si rinnova da parte dei gestori anche la richiesta di avere qui un presidio di legalità come per esempio una postazione della Polizia Urbana.